Saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale. Uscita numero 54 delle 110 previste, un modello in scala 1 a 8, l'editore è Centauria. Cosa c'è Michelangelo? Non mi ne accade niente, mi giro e mi distrago un attimo, è finita, poi mi trovo i pezzi dall'altra parte. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato, date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non solo di auto. E infine, qualora ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi può contattare privatamente, grazie. Per questo numero ci servirà anche il musetto anteriore, un'altra opera d'arte di questo modello, bellissimo. Eccolo qui. Vi siete mica spaventati per tutti questi fili? Volete il modello bello? Volete che abbia tutti i particolari? È normale, è così, ma non vi dovete preoccupare, non c'è nulla di così complicato, bisogna soltanto fare attenzione. Non avere fretta, lo sapete come la penso e come dovrebbe essere. All'interno trovo nuovi cavi e luci del cruscotto. Questa è tutto quello che serve per illuminare questo, è tutto quello che serve per illuminare il cruscotto. Andiamo adesso insieme a voi a vedere cosa abbiamo trovato. Questo è un cavo M, questo invece vedete che non c'è nulla, c'è il maschio e la femmina, il connettore e il ricettore, quindi è un cavo di prolunga M. Qui abbiamo un'altra M. Quel fettente del mio gatto si è preso il pluribull e si è portato via, però dovrebbe esserci un'altra, eccola qui, un'altra M. Quindi sicuramente queste sono le due frecce. Poi ho questo qui che è distinto con la lettera N e lo mettiamo qua insieme. Questa è la lettera O. Ecco qui. La L. Questa qui è sicuramente la prolunga di questa. E poi abbiamo la lettera P con la sua prolunga. Quindi adesso non dobbiamo fare altro che attaccare tutte le lettere corrispondenti, quindi i cavetti ha le sue prolunghe e ci vediamo dopo. Ci servirà ovviamente questa dove metteremo le tre batterie AAA, dei mini stilo. Questo che abbiamo assemblato nell'ultimo fascicolo, il numero 53 e l'altoparlante adesso metto pausa perché vado a raccogliermi tutti i fili così come ho fatto con questi e vado a inserirmi, perché non vi serve chiaramente il mio supporto, in quanto vado quindi a inserirmi tutti i fili con le lettere corrispondenti nella scheda. Però vi faccio soltanto notare una cosa. Qui c'è un ricettore che non è segnato questo. Vedete che qui abbiamo la lettera M? Qua sopra abbiamo la lettera M. Bene, le due lettere M vanno una qui e una qui. Poi tutto il resto è scritto. Non vi potete sbagliare, ok? Quindi ci vediamo dopo. Il mio gatto tigretto è Raffaeo Michelangelo, eccolo qua il mio amore. Ti sei appropriato di tutto. E come facciamo adesso? Va bene ragazzi, guardate. Io ho fatto tutti gli inserimenti. Ecco qui. L'altoparlante vado a liberarlo, poi andrò a chiuderlo nuovamente. Qui ho messo le batterie. Nel telecomando ho messo un'altra batteria a bottone. Vi faccio vedere. Eccola qui. La batteria è la 2032 e si inserisce così. Bene. Vediamo un po'. Dovrebbe essere spento l'interruttore, però potrebbe anche essere acceso. Proviamo se funziona qualcosa. Mettiamo questo. Non funziona, quindi devo spostare il selettore qui. Ecco qui. Vado. Tenete presente che poi si sentirà ancora più forte perché sarà amplificato dalla cassa armonica dove andrà inserito. Bene. Poi abbiamo questo che è il clacson. Poi questo che accende tutto. Cruscotto, luci. Perfetto. Abbiamo queste due luci qui, questa e questa, più quest'altra qua sotto. Quindi, premendo la luce, premendo la, questo centrale qui, si accendono le luci di Domodossola, le luci di Domodossola, le luci di Ancona, e non vedo nient'altro. Poi, questo accende e spegne le luci che vi ho appena detto, questo. Queste invece dovrebbero accendersi quattro luci, quindi sicuramente sono quelle dei faretti secondari. In realtà sono sei. Però qui abbiamo anche altre due luci, quindi... Eccole qui. Per quattro. Le D di Domodossola. Queste sono le E di Empoli. Queste sono le A di Ancona. E più ovviamente il cruscotto. Se schiaccio questo... Si accende e si spegne la luce N, rimangono accese tutte le altre, vedete. Questo è il freno. Infatti, si accendono le O. Aumentano di intensità, vedete. Poi, questo è l'indicatore sinistro. Eccolo qui. È corretto. Questo è l'anteriore. Questo è il posteriore. H e G. Andiamo a vedere l'indicatore destro. Si accende il posteriore J e l'anteriore I di Imola. Queste invece sono... Aspettate che controllo. Beh, comunque funziona tutto. L'unica cosa, volevo vedere le luci di emergenza. Turn off. Questo spegne tutto. E queste sono le luci di emergenza. Queste. e si accendono tutte e quattro le luci della lettera I la lettera H la lettera J e la lettera G. Ok. Direi che funziona tutto. Un attimo, ragazzi. Questa è una curiosità mia. Abbiamo anche la luce del navigatore. Il copilota. Navigatore. Eccola qui. Questa. E che fa accendere la luce contrassegnata con la lettera N. Eccola qui. Spero di avervi detto tutto. Quando schiacci invece quest'altro in fondo, questo, si accende, si spegne il cavetto numero... con la lettera P. Guardate che bello che è l'illuminazione del cruscotto. Bene, io penso di avervi fatto vedere tutto. Adesso ci dicono... vediamo qui. Adesso dobbiamo andare a staccare le frecce anteriori, che sono quelle che oltre ad avere il LED... adesso ve lo faccio vedere... oltre ad avere il LED hanno anche quello piccolino. che sono queste? sono queste qua lettera g e lettera d no chiedo scusa lettera g di gorizia e lettera i di imola quindi vado a staccarmi queste dalla prolunga senza staccare dalla scheda quindi così ecco bene i e lettera g poi andiamo a smontare questi due supporti sinistro e destro non dobbiamo assolutamente sbagliarci ad inserire le lettere quindi attenzione prendo sul cacciavite più piccolo quindi ok questo è messo così sto ragionando a voce alta e scusate ragazzi questo è messo così quindi io ovviamente sto facendo il destro e il destro e lei questa quindi questo mettiamo così all'interno come si dice sempre in anche in questi casi quando si trova il metodo tutto è molto più semplice guardate attenzione a riposizionare bene il vetrino dovete infatti poter leggere h4 in maniera corretta non al contrario quindi metto questo così faccio entrare questo però attenzione perché i fili devono poi andare sul basso adesso vi faccio vedere ecco ecco così in realtà deve poter entrare vedete che non tocca ancora guardate queste sono cose importanti perché poi fate danno e vi chiedete come mai ho fatto danno adesso vi faccio vedere guardate come potete vedere qui non tocca ancora se metto la vita e lui tocca vedete fa così ma non va bene perché danneggio i due fili qui che se notate sono accavallati ecco perché non posso ancora avvitare io potrò solo avvitare quando questo scende da solo in battuta qua sotto quindi ci vuole pazienza estraggo di nuovo questo e controllo i fili senza fretta e se non basta lo faccio un'altra volta e un'altra volta ancora finché si posiziona bene non basta ancora e sapete perché adesso ve lo faccio vedere perché l'ho visto ancora bene adesso guardate questa scanalatura qua sotto qui non va a toccare il faro quindi i fili facilmente possiamo farli passare qui dove è più basso proviamo ok ok secondo me così va bene se poi riesco anche a farlo non è male abbiate pazienza sto controllando perché sì io potrei anche evitare così ma non mi piace metto un attimo pausa e controllo bene poi vi dico ok ragazzi eh ho visto dove bisogna farlo passare guardate guardate i due fili è lì che deve passare infatti qui tocca posso quindi avvitare perfetto poi inserisco questo io metto vediamo se mettere il led in orizzontale o in verticale perché cambia la luce poi se la mettete a se la mettete a casaccio una destra una sinistra non vi conviene così in orizzontale metto il led così adesso adesso qual è la prova se abbiamo messo correttamente che la i deve accendersi con questo pulsante qui quindi vediamo la i dov'è bianco e nero il cavo bianco e nero questo dovrebbe essere sì ecco qua destro e infatti eccola lì è corretto faccio la stessa cosa adesso con la lettera G e ci vediamo dopo ed eccoci qua ragazzi la prova adesso che vado a fare come ho fatto prima è quella di controllare anche la freccia sinistra e guardo di nuovo anche la destra indicatore destro perfetto indicatore sinistro ecco qui tutto funziona perfettamente bene sono molto soddisfatto qui abbiamo anche chiaramente quello che lampeggia dietro bene ragazzi io vado subito poi a rimettermi immediatamente questa nella cassa che me la protegge vado a staccarmi come sapete poi anche sia il pacco batterie che questo che è l'altoparlante perché sono pesanti e non voglio che si strappino magari i ricettori si possono danneggiare i fili io vi ringrazio del vostro tempo un saluto e un abbraccio un saluto anche a tutti i vostri cari più cari da me Michelangelo il mio gatto tigrato europeo il mio fratellino è tutto grazie del vostro tempo se avete piacere di darmi un'ulteriore mano stavo guardando il radiocomando una cosa si stavo dicendo di condividere i miei video nei gruppi dedicati così che ci sia qualche altra persona che magari si iscrive al canale ragazzi allora questo via perfetto tutto funziona sono soddisfatto ciao a tutti ragazzi al prossimo video